E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo ad unboxare il secondo fumetto della nuova collaborazione Fortnite per Marvel, Guerra Zero E come vedete abbiamo in primo piano fondazione e in secondo Iron Man Sul retro troviamo Thor Ora invece andremo ad unboxare per l'appunto il fumetto e lo andremo a spellicolare Con molta calma e molta delicatezza non rovinarlo Rimuoviamo la parte centrale E poi arrivare fino ai lati Ok Con calma Troviamo per l'angolo di uno Anche il secondo E rimuoviamo la parte finale Eccolo qui Lo rigiro Lo vado a farvi vedere La prima pagina come faccio in ogni video Di unboxing Eccola qui Vediamo la prima pagina Dove troviamo un po' di Avengers Più dei personaggi di Fortnite E ci vediamo fra poco quando andrò a riscattare il codice di questo fumetto Ed ecco qua ragazzi Abbiamo appena riscattato L'oggetto estetico Di questo secondo fumetto Della collaborazione Fortnite per Marvel Ovvero la copertura di Iron Man Bella ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Ciao